Alla Corte del Ressole è un brano dedicato a Luigi XIV, detto Ressole. Il brano ricorda lo stile barocco. La base musicale è composta dal flauto, un oboe, un fagotto, degli archi, i timpani e un tamburello a sonagli. Il brano ricorda lo stile barocco. Il brano ricorda lo stile barocco.